Lo sportello per il diritto alla salute sarà in realtà anche all'Aquila per iniziativa di Feder Consumatori e SPCGL. Lo sportello sarà in via Saragat, nelle sedi della CGL. Tutti i cittadini potranno rivolgersi agli operatori per vedere garantito il diritto alla salute e l'accesso alle prestazioni sanitarie. Una lotta che Feder Consumatori e CGL portano avanti da tempo. Uno dei problemi più grandi è rappresentato dalle liste di attesa che hanno tempi biblici. L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto individuale e collettivo. La legge 833 del 78 istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e la legge 124 del 98 prevede che le prestazioni debbano essere erogate nei tempi stabiliti. Tutto ciò oggi viene negato. Per te ragione invitiamo i cittadini a recarsi presso lo sportello della CGL dell'Aquila nella zona industriale o prendere contatti con noi nei nomini che voi troverete anche nel nostro sito www.federconsumatoriabruzzo.it Tutto questo mentre la ASL ha appena approvato con una delibera il piano sanitario aziendale per la gestione del sovraffollamento del pronto soccorso. Un documento di programmazione sostanzialmente che per evitare le lunghe file raccomandazione fa interventi utili. Nella delibera si specifica che gli accessi negli ultimi anni sono aumentati per una serie di fattori. In primis la domanda crescente del cittadino di accedere a un servizio ma anche per l'invecchiamento della popolazione. L'obiettivo è migliorare insomma sia la situazione in ospedale che la relazione territorio-ospedale.